C'era un accordo fra di noi che non sbagliava quasi mai, più che fratelli tu lo sai. Io nelle mie avventure, tu le tue, c'era una stanza presa in due, dirare a sorte chi ci va. Poi raccontarsi come fu e inventarsi qualche cosa in più e dirsi da domani un'altra e via. Sinceramente non lo so se cercavamo oppure no la donna giusta prima o poi. O se solo per spavalveria o per stupire la compagnia si diceva da domani un'altra e via. Poi la donna che vuoi nascondere non racconti quello che fai con lei. Cosa dirti? Tu non mi crederai. Cosa dirti? Tu non mi ascolterai bene. Quando è così amica o mio peggio per te. Un giorno lei cercò di me, mi chiese più o meno se non mi ero accorto mai di lei. Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. A presto io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia. Grazie a tutti